Con l'ordinanza emanata lo scorso martedì dall'amministrazione comunale di Pescara arrivano importanti novità sul fronte dei parcheggi in città. Dal 20 marzo a Pescara torneranno infatti a pagamento le soste dell'area di risulta la domenica e i giorni festivi, ma anche altri parcheggi del centro cittadino diventeranno a carico degli automobilisti. L'ordinanza però prevede soste gratuite per i mezzi elettrici e sconti per le auto ibride, come spiega il Tg8 Luigi Alboremascia, assessore a mobilità e viabilità del comune di Pescara. È una scelta strategica che si inquadra in una visione complessiva della mobilità che sta cambiando, sta cambiando da diversi anni e cambierà anche in futuro. Non soltanto per il momento che stiamo vivendo, ma noi guardiamo positivamente anche alla prospettiva. Più rotazione di parcheggi e questo riteniamo che sia favorevole soprattutto alle attività commerciali proprio perché gli stalli devono essere liberi e devono essere fruibili. Più organizzazione nei parcheggi, più sicurezza perché la misura che riguarda l'area di risulta è quella che deve scoraggiare soggetti, persone abusive che svolgono l'attività in maniera clandestina, invece noi dobbiamo garantire sicurezza ai fruitori dei parcheggi. Poi novità, novità per le auto elettriche che saranno completamente esentate da qualunque tariffa che riguardi la sosta in tutta la città. Le auto ibride avranno uno sconto del 50%, abbiamo degli abbonamenti molto convenienti per i singoli parcheggi, quindi per i lavoratori, per i residenti, per tutti i fruitori di quei singoli parcheggi. E poi la grande novità in questa misura, in questo provvedimento, è l'utilizzo di un sito che ormai non è più utilizzato da oltre quattro anni, che è la galleria della stazione ferroviaria, quella che era destinata al mercatino multietnico, che non è mai stato realizzato, e che invece destineremo ad una sosta pertinenziale, funzionale, a chi utilizza la nostra grande stazione ferroviaria. È una novità assoluta, quindi è un provvedimento che, visto così, può suscitare un attimo di perplessità per quanto riguarda tariffe che, tra l'altro, tengo a precisarlo, sono tra le più basse in Italia a Pescara. Ma in realtà c'è una visione strategica, c'è un'idea di mobilità, c'è un'idea di modernità, c'è un'idea di servizio alle attività commerciali e di rotazione che è fondamentale, che i parcheggi non possono diventare posti autoprivati, di fatto, ma devono essere al servizio della comunità, 24 ore su 24.